FF! 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 Sai gazzi, che cosa posso fare per non lasciarvi andare? Bruciare l'ascensore? Da questo pubblico, così più... Io non ho anche te, ma tu mi lasci un uomo libero Nel mondo per difendermi avrò bisogno di te Mentre tu vai via, ti stai seguendo la mia anima Non puoi restare dentro, non c'è più vita che a noi Che cosa posso fare per non lasciarti andare? Non c'è l'ascensore che ti sto portando giù Con questo amore bellissimo Che mi diventa impossibile Che cosa posso fare per non lasciarti andare? Se poi posso tappiare, posso darti di più In questo amore bellissimo Che mi diventa impossibile Non puoi lasciarmi qui Senza finire questa pavola Se inizioni per i neri Mi parleranno di te Che cosa posso fare per non lasciarti andare? Che mi diventa impossibile Che mi diventa impossibile Che mi diventa impossibile Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info